Brunella Gasperini ha tenuto per 27 anni la rubrica della posta su Annabella. Per 27 anni ha sgridato, ha consolato, ha preso in giro le donne. Ha tenuto loro compagnia quando la radio passava soltanto canzonette e giornali radio. Ha parlato con le donne di problemi di donne. E si sa che quando questi problemi arrivano sulle pagine dei settimanali, di solito sono semplici e monumentali insieme. Sono tutti o bianchi o neri, senza mai toni grigi, sono, senza di lui non vivo più, sono insomma melodrammatici. Quello che Brunella chiamava melò, secondo la parola di una sua nonna francese, racconta. E lei odiava il melò, però diceva, quando uno ci vive insieme per 27 anni professionalmente, qualche cosa ti rimane attaccato. E confessava anche che nei suoi primi romanzi le era scivolato via un po' di melò, scrittrice allegra con lacrime, diceva, sapendo che l'ironia in fondo riscattava questi romanzi. Un giorno, però, Brunella decise di scrivere un romanzo senza più lacrime. Diceva, questo lo voglio senza melò. Se mi esce con il melò, lo brucio, lo ingoio, lo distruggo. Uscì una donna e altri animali. Un romanzo, non è un romanzo, anzi, Brunella giura che non è un'autobiografia. In realtà è un ricordo della sua vita personale, diciamo variazioni sul tema della sua vita. Brunella Gasperini, che qui vediamo giovane, la ricordiamo con un dialogo tra due attori. Un dialogo, tra l'altro, in cui sentiamo quanto è stato difficile, faticoso, quotidianamente faticato il suo rapporto con lo scrivere, con la macchina da scrivere. Buongiorno. Buongiorno, direttore. Allora, lei cosa sta facendo in questo periodo? Conosco la domanda, gonfia di oscuri presagi. Conosco anche lo sguardo che l'accompagna. Non curante, sorgnone, da gatto che sta per giocare col topo. So quello che sta per chiedermi, so anche quello che risponderò. Anche lui lo sa. Cos'ho da fare, mi chiede. Ma se gli racconto le mie giornate... Il marito? Ma lei non è una donna liberata? Non ha somma simpatia per le donne liberate. I figli? Ma sono accasati e maggiorenni. I suoi sono ancora piccoli. È assillata dalle lettrici al telefono, ma stacchi la spina. Non ha somma simpatia per le donne al telefono. Le bestie? Ma le butti via. Non ha somma simpatia neppure per le bestie. Le avevo chiesto che cosa sta facendo in questo periodo. Beh, ho la posta, ho le recensioni e poi devo scrivere un libro. Ecco, ecco, questa è una cosa che ho l'impressione di averle sentito dire già qualche altra volta. Non mi riguarda. Adesso deve fare qualcosa per il giornale. Ma se gli ho dato l'anima al giornale? Io non voglio la sua anima. Voglio un articolo. Non mi sento molto in forma in questo momento. Non mi sento mai in forma. Non potrebbe farlo fare a qualcun altro. Lei è una strana giornalista. Mentre tutti si scannano per fare più servizi che possono, lei cerca sempre di scaricarli su qualcun altro. Forse sono più scrittrice che giornalista. Forse... Una scrittrice che non scrive. Non è uno scherzo. È una tragedia. Ma io sto appunto aiutandola ad uscire dalla sua tragedia, ordinandole, perché questo è un ordine, di fare un servizio urgente. Allora no. Allora no cosa? Se è urgente non posso farlo. La sola parola urgente mi procura scariche di adrenalina. Me l'ha proibito il medico. Ma è vero, non posso fare lavori urgenti. Me l'ha proprio proibito il medico. Anche questo ho l'impressione di averglielo sentito dire qualche altra volta. Quello che il suo medico non sa è che se un lavoro non è urgente, lei non lo fa. Rimanda di giorno in giorno finché diventa urgente. Urgentissimo. Poi dice che la colpa è mia. Non dico che è colpa sua. Dico che sono fatta così. Che se devo lavorare con l'acqua alla gola... Le regolo le coliche, l'emicrania, la tachicardia, l'insonnia. Non mangia e non digerisce più niente. È così? Più o meno così. Beh, beh, non ne terrò conto. Posso procedere? Dovrà fare un'inchiesta. In sostanza, una serie di interviste su... Ah, no, 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 no. Cosa no? Le interviste non le voglio fare, non ne sono capace. Lo so, lo so. Anche questo l'ho già detto molte volte, è vero. È la pura verità. E poi mi pagano sempre troppo poco. Non la facevo così mercenaria. Sono tanto mercenaria che pagherei perché questa maledetta inchiesta mi riuscisse. Lui lo sa. E poi sono timida. Non mi va di scocciare la gente. Non scoccerà nessuno. Stavolta poi si tratta di intervistare dei ragazzi. Posso scrivere tutto quello che voglio? Sì. Anche le divergenze ideologiche? Le divergenze ideologiche dei ragazzi sono ammesse. Non parlo di quelle dei ragazzi. Parlo delle mie divergenze ideologiche. Mi fido del suo buon gusto. Posso scrivere le parolacce? Le parolacce che dice lei sono ammesse. Non mi riferivo alle mie parolacce, ma a quelle dei ragazzi che devo intervistare. Cosa faccio? Le censuro tutte? Le traduco? Le lascio come stanno? Vedremo, vedremo caso per caso. Anche le parole volgari come S-T-R-O-N-Z-O? Il meno possibile. E C-O-G-L-I-O-N-E? No, no, quella no. L'ha detta una volta anche Andreotti alla televisione. Riferiva parole altrui. Anch'io riferisco parole altrui. Andreotti era in diretta, lei no. Allora palle. Quella può andare, no? Ormai è nell'uso. E la parola più citata dai ragazzi l'ha detta anche Zavattini alla radio, quella che finisce in ZZ. Ma non è uno struzzo. Come la traduco? Cavolo. Cacchio. E C-U-L-O? Anche questa la dicono un sacco di volte in televisione. Non solo in diretta, non solo sulla seconda rete. Scritto fa un altro effetto. Meglio, meglio... di dietro. Va a fan di dietro. Allora mi faccia otto cartelle, me le consegnerà venerdì. Questo venerdì? Ma lei è matto. Lo sa che oggi è martedì. Appunto. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Fa quattro giorni. Una giornalista come lei vuol non essere capace di fare un'inchiestina così in quattro giorni. Uno è già andato e fanno tre. Il mio medico... E va bene, va bene. Venerdì pomeriggio sul tardi. Venerdì pomeriggio chiudiamo. Venerdì mattina. Così i giorni sono due e mezzo. Vile terra. Perché ho fatto questo mestiere? Quanto scommettiamo che giovedì pomeriggio mi telefonerà per dirmi che è pronta? Così è stato. È sempre così. Come molte persone che vivono sempre a tavolino Brunella aveva i suoi piccoli riti la cornice alla quale era affezionata. Lavorava in una stanza piena di animali e tappezzata di scritte che coniava lei stessa. Una diceva per favore non rompetemi il filo. Un'altra conteneva solo due parole scemi, scemi e l'aveva scritta dopo aver vista una tribuna politica in televisione. Poi di fronte alla scrivania un giorno mise un'altra grande scritta. Era il suo epitaffio. Mettete le mie ceneri sotto il mio gelsomino e scrivete sull'urna viaggiò tutta la vita attorno a un tavolo. Poi ci ripensò trovò che era melò e aggiunse un altro verso senza peraltro combinare un cavolo. Bene questa volta aveva torto Brunella nel voler aggiungere il versetto spiritoso. Era più giusto ancora l'epitaffio melò. Purtroppo non è vissuta abbastanza per vedere il successo del suo libro. che ho sapato vediamo il suo libro Grazie a tutti.